Ello qui ragazzi e benvenuti ragazzi, sono Cattelico, oggi ragazzi appuntamento incredibile in quanto siamo tornati con Giochiamo con Macchina a Caso, sempre nel 3v3 L'ultimo episodio è stato tremendo in quanto ci è capitato per due volte su due la Guardian, macchina che più amo e ammiro Amo ovviamente il disegnatore di quella macchina, lo vorrei incontrare comunque in qualche fiera così per stringergli la mano, fortissimo, proprio forte E niente ragazzi, ci vediamo ora con la randomizzazione Allora siamo qui sempre con il nostro preset bellissimo, sfide, andiamo subito a randomizzare la prima macchina e ci esce la Nemesis con... la Nemesis, ci vediamo in gioco Signori benvenuti nella nostra primissima partita su Forbidden Temple, siamo con questi bellissimi fanciulli Io ragazzi vi ricordo come sempre che ogni giorno molti di voi guardano i miei video più del 50% guardano i miei video ma non si iscrivono Se comunque tu fai parte di quella cerchia ti prego di iscriverti in quanto veramente mi aiuti molto a crescere ed arrivare a 20.000 Visto che siamo a road to 20.000 iscritti per il can... Ahahahahah Sul canale E quindi ggwp E inoltre vi ricordo di mettere un bel mi piace se a fine video... Ehm... che cazzo ho detto? Se comunque il video vi piace Allora ragazzi ho fatto un passaggio... Sì oh... Please... Grazie Ho fatto un passaggio assurdo lì Mi sono impappinato con 19 verbi su 13 Però diciamo che l'azione la stavo seguendo Cioè ho preferito impappinarmi con i verbi ma seguire l'azione Vai Eh raga purtroppo ci è uscito sto motore Ditemi nei commenti cosa è importante ragazzi Se preferite che io lasci i motori quelli che escono casuali o no Perché questo dà molto fastidio ma mi è uscito proprio quello che è uscito casualmente io non l'ho proprio cambiato quindi ditemi voi Se vi danno fastidio comunque sti motori o no o vi fanno ridere non lo so Mi piace vedermi stressato Non so che dire Che laggata è stata raga ma l'aveva toccata Io non so se anche nella sua visuale è andata così ma l'aveva... non è... l'aveva toccata ragazzi Qua l'aveva toccata lui Non mi combaccia il tutto Ho bisogno dei chiarimenti da parte dei server di rocket ok? Non va bocca Comunque tutti i motori belli abbiamo eh Quello c'ha tipo una balena Come motore Io c'ho qua il cacciavite Vediamo l'azione perché non ho ben capito Il tutto Ha sbagliato lui eh Allora io l'ho toccato ok ma comunque l'aveva toccata male l'aveva messa al centro eh Ora ok l'ho toccato io magari ho sbagliato a girarmi perché ci volevo andare io ok c'è andato lui ma Ragazzi ha comunque sbagliato il tocco quindi non mi deve rompere i coglioni eh Le cose si devono dire Sarebbe comunque entrata in porta Perché aveva sbagliato il tocco e l'aveva messa al centro quindi va bene tutto Avevo sbagliato comunque E il posizionamento e tutto ma Ora io li muto A Mr. Wow e Mr. Wow 2 io ora li muto Perché sinceramente Di vedere due tizi che mi schifono ogni più secondi Wow 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 Iiii Wow va bene ok Aspetto che qualcuno segni per mutarli perché verrà bene Sono al centro Sono al centro Non avanzo Uh peccato Meno male Ok ce l'ha? Si Vediamo se me la passa La metto al centro Eh Ok bravo Ok Allora mutiamoli perché veramente non ce la faccio più Chi cacchio sono Manne e stealth Ho mutato quello sbagliato Stealth e manne Questo qua va bene Mamma mia raga quelli che scrivono Wow 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 Non li sopporto Non li sopporto veramente E io sto motore sto impazzendo ve lo dico Fì fra poco mi tiro un pugno in faccia Perché veramente sto motore non ce la faccio più Che cazzo è? Is Certo che questa serie mi costringe a usare macchine Che io non vorrei veramente usare Quindi va bene mi fa riscoprire macchine Che dovrebbero comunque restare Nascoste Diciamo Va bene Ok Vediamo Madonna Madonna ragazzi Sto motore non ce la faccio più Ci ho le orecchie che Non ce la faccio più Ok Non ce la faccio quindi Me ne vado Prendo il boost La passi Eh Non l'ha passata a quello Purtroppo Meno male Sto in porta Non ci vado Peccato Buono Ok 2 a 2 Vedete che senza wow 1 e wow 2 Il mondo è migliore Lui qua ha sbagliato Ma comunque ce l'ho io Quindi va bene Ok Allora vado io Vediamo come battere con sta cosa qua Oh shit Goal No Ok bravo Vai tu Va bene Mi ha dankato bene Vado in porta Continuo No non ce la Quindi torno Oh My bad My bad Eh qua Mi l'ho fatto prendere Dalla foga La lascio a lui Ok Buono Vediamo che fanno Oh lui proprio Pusha come un toro Così Ok Ce la fa Vediamo Nah L'ha tirata a bassa Allora Basta Spegnete sto motore E che cazzo Oh oh No E gol GG No L'ha messata lì Ma è da ultimo ragazzi L'ha messi Toccazzi Eh qua Eh GG Raga Purtroppo è GG Usciamo subito E andiamo a randomizzare subito la seconda E purtroppo Non mi sono trovato benissimo sinceramente Ve lo dico Impressioni su questa macchina Non mi piace Poi ovviamente raga è normale che giochi male In quanto la uso per tre minuti E poi basta Però vabbè ci vediamo con Sì ci vediamo E andiamo subito con la randomizzazione La seconda Uh L'animus L'animus GP Noi Signori benvenuti Nella seconda Pro Ciao Mi sono mangiato metà parola di quello che ho detto Però va bene Siamo con della bella gente Io vi ricordo ragazzi Che vado in live Un giorno su Twitch Dalle 14 in poi Link in descrizione Tranne la domenica Link in descrizione Anche di Instagram Dove metto ormai Una foto al giorno Per le storie Visto che Ho ripreso Essere attivo Potente Incredibile Quindi tutto in descrizione Allora No Mi vuole scoppiare Ok Vediamo che possiamo fare Lui arriva primo La lascio al mio Visto che io ormai il mio l'ho fatto Vediamo Se la stoppa L'aspetto qua C'è ancora lui Non ci vado Qua posso Quel dunk Ce la fa? Bravo Io qua Vado in porta Aspetto Visto che già ci stanno loro Qua posso andare al centro No perché lui taglia Frate dove vai? Centro sinistra Non capisco Non sto capendo Sto dietro Perché veramente Ah la volevo scoppiare Non stavo capendo Questo faccio La destra sinistra La lascio E ragazzi Sto giocando difensivo Perché sto capendo Prima devo capire Come ruotano Cosa fanno Vedete Tagliano Guardate Io non sto capendo I really Non I really not Stagg append Niente Sono al centro Peccato Era un po' troppo Lunga Va bene Abbiamo dancato bene Non abbiamo boost Però Meno male Ok Prendo il bustino Ok Ho provato Va bene Va bene Pieno L'ha capito È stato bravo L'avversario Ha capito Il mio Il mio dribbling Bravo No Mannaggia a me Che non conosco Sta macchina Ok vai Vai tu Ok Sono cagato addosso Ma lui mi può scoppiare Ma tanto se la palla Non è in porta nostra Sti cavoli diciamo Ce la faccio In porta l'ho messa Ma lenti Ok Campione No Mi l'ho preso pure il tempo Per tirare Che cazzo Cazzo Mi sono lanciato per sicurezza Tutto Magari questa non ce l'ho Ok No È stato velocissimo Sto provando a fare Non ci vado Sto provando a fare cose Con sta macchina Che non sto riuscendo Cioè sto riuscendo a metà Alcuni tocchi Li riesco a fare È vero male C'è nel don del tutto Non come li farei Magari con l'Octane Con la Fennec Ma pure con la Dominus Perché uno Non so le hitbox Raga non mi ricordo Le hitbox Di ogni macchina Ma che ne so Io Questa che non Penso sia Dominus Non lo so mai Nella vita Ok Me ne torno in porta Ci va lui Ok Non tocco niente Mi fermo Eh ma ci doveva essere l'altro Qua se quello mi taglia così Gli leviamo il boost Ok Vediamo se me la ripassa Bel tocco Bravo pure lui Tutte e due ci siamo andati Raga con la palla Era proprio Un po' impossibile Da capire Il rimbalzo Prende il boost Vero Prende anche il boost Prende sia la palla Che il boost Cavolo Levati Dove prendere Il mio boost Che mi spetta No Mi sa Tu la portò libera No Doppiamente Oh cavacero Cazzo Ce la fai? No non ce la fai Sì però dopo un po' Che missi Ti dovresti levare Gino Io ti voglio bene Però Diciamo che Dopo il secondo miss Ibr Allora Vediamo Prendiamo il boost Non ci vado Buono Ok Dai Dai che ce la facciamo La vinciamo Sta partita ragazzi La vinciamo Sono tipo Un gatto Spastico Tipo Che vai in giro A cavolo Sto dando fastidio Ok Metto lì Dico Che hai problemi 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 Metto lì E faccio queste cose Ok Ok Vado dietro C'è il nostro Non ci vado Perché è già saltato Il mio Quindi Mi favolo Bella Per lei E lui Aia Aia Ma sei Mazzo Ok Fanno cose Io non vado Vado Ora vado Eh sarebbe stato il terzo gol GG ragazzi Bella partita Ovviamente Sono macchine Che dopo Comunque mi sono Sono tante macchine Strane Diciamo non regolari Non regolari Che vedi comunque in gioco Quindi raga Fatemi sapere che ne pensate Di queste macchine Della mia prestazione È bellissimo Ovviamente Io Non potrei mai giocare male E niente ragazzi Io vi invito a lasciare un mi piace Un commento E l'iscrizione E noi ci vediamo Un prossimo Bella Ciao 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 Ciao